A regalo d'autore non possono mancare i grandi distillati, quindi raccontiamo questo segmento di manifestazione che è molto importante ed ogni anno si sviluppa sempre meglio. Per fortuna nostra direi di sì, l'Italia è conosciuta per essere un paese dove si beve poco alcol ma si beve bene e quindi certo la qualità dei distillati così come di altre cose è molto importante nel nostro mercato e diciamo che noi ci difendiamo bene e qui siamo con due prodotti di punta del nostro portafoglio abbiamo con Room Zacapa, Zacapa Royal che è una nuova edizione di questo Room, che è già un Room Premium e Royal vuole essere veramente il prodotto di punta di famiglia Zacapa. è un Room che passa gli ultimi 5 anni di invecchiamento in botti di cognac francese provenienti dalle botti del Bois d'Urua, cioè queste botti destinate solo per i grandi cognac che provengono da una foresta specifica nel tronche francese, quindi sono tutte certificate per essere utilizzate solo appunto per i grandi prodotti destinati appunto alla casa reale francese una volta e poi ovviamente oggi a tutti i consumatori chiamano i prodotti di grande qualità. e quindi un Room che provengono in Guatemala, un Room di tradizione se vogliamo spagnola perché è un Room fatto in Guatemala, è ottenuto dal puro succo di canone e zucchero ma poi affinato in queste botti europee, quindi c'è questo tocco francese, questo francesismo che gli dà molta eleganza e raffinatezza a questo Room. Molto apprezzato anche dall'ambasciatore ungherese. Esatto, abbiamo visto infatti come ha apprezzato molto questo Room, in realtà non solo, per fortuna a tutti gli appassionati di Room. Le chiedo questo, c'è una cosa da dire ancora, un settore che si va sempre più diffondendo a livello di comunicazione ma soprattutto di pratica in uso è quello degli abbinamenti anche per i grandi distillati e quindi qual è il corretto abbinamento per un grande distillato? Beh questa è una bella domanda, in realtà secondo me l'abbinamento si può fare con tutto, un grande distillato proprio per questa sua caratteristica di essere grande, quindi di avere una struttura aromatica, un'eleganza, una affinatezza unica può essere abbinata a tutto il pasto come i grandi champagne, quindi certo secondo me Royal è indicato molto col pesce crudo con il caviale perché ovviamente è un match veramente interessante Room e il caviale proprio perché il Room ha questa nota dolce nel finale quindi va un po' a contrastare le note sapide del caviale ma anche con un altro pesce crudo, la tartare di ricciola piuttosto che appunto qualche altro tipo di pesce. Ma poi ovviamente essendo un Room come dicevo prima si può abbinare a tutto il pasto e trova sicuramente il suo come dire incontro principale con il dolce, il dessert ma anche il cioccolato che certo soprattutto durante le feste non manca mai nei salotti buoni delle nostre case quindi proprio perché l'Italia ha anche una grande passione per il cioccolato. Certo con un Room come reale il cioccolato che noi consigliamo è un cioccolato che abbia una percentuale di cacao che sia intorno ai 50-60% perché abbiamo bisogno anche di un po' di morbidezza, di cremosità per contrastare un po' l'aspetto alcolico di questo distillato. Chiudiamo come ho fatto con tutti gli illustri ospiti che l'hanno preceduta con un augurio. Guardando il 2017 tra 48 ore saremo in onda con queste interviste quindi saremo in pieno periodo natalizio a ridosso anche dell'8 dicembre quindi i suoi personali auguri intanto di buone feste all'insegna dell'eccellenza e guardando al 2017. Ma certo abbiamo passato anni molto difficili io credo che sempre più l'orizzonte comincia sembrare sereno insomma nel senso che sembra che qualche cosa si sta muovendo quindi l'augurio è certo che il 2017 sia comunque meglio del 2016 e l'augurio che insomma sempre più il si vada a incontrare prodotti di qualità perché alla fine la qualità è un po' il sale della vita insomma alla fine è quello che ci aiuta a passare momenti difficili ma anche poi autogratificarci in questi momenti in cui abbiamo bisogno di un qualcosa che ci può appunto aiutare in queste serate così fredde con gli amici magari quindi passate anche con con la famiglia.